E' altra gente, un altro team da due qua, occhio braga, occhio braga Pa, 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 pa Eeeh, va bene, ma già Fa caldo, fa caldo Aspetta Vai, graba le calpi No, non ce lo faccio Aiuto, 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 aiuto ora Aiuto ora Aiuto ora Ma vabbè, ma scappa Ma cosa scappa? Vieni qua e affrontami Davvero uomo o davvero donna Signori, Milite Teschio sbloccato Ecco qui ragazzi, lo stile Milite Teschio dorato L'anno scorso è uscito, o due anni fa, non mi ricordo, correggimi ragazzi se sbaglio Il Milite Teschio viola Che era solamente per quelli oggi che l'avano acquistato la volta prima che era uscita E adesso è uscito Milite Teschio dorato Una versione a parer mio ancora più bella ragazzi Ancora più bella Purtroppo non l'ho sbloccato io perché io non ho mai comprato il Milite Teschio Ma è stato gentilmente offerto da un mio amico Ragazzi, mamma mia quanto è bello In teoria dovrei avere anche la versione femminile Ma mi sembra di no Scherzavo ragazzi, scherzetto, non ce l'avevo Comunque ragazzi, oggi duo del Milite Teschio in arena Mamma mia, no, forse in arena no In pubblica normale che se non è un casino Andiamo in partita, andiamo a fare la Milite Teschio dorato Mega Challenge I nostri eroi stanno buttandosi giù dal Battle Bus Braga stirato e elegato ragazzi Due teschi oro veramente molto molto affascinanti Regà, ho una tattica La challenge è possiamo vincere solamente utilizzando le armi oro e le armi mitiche Quindi ho una challenge, ho una tattica per vincere diciamo questa sfida Andiamo in questo posto Prendiamo delle armi che non saranno dorate Ma non fa niente Una volta che avremo la prima arma dorata o mitica Potremmo utilizzare solamente quella Uccidiamo la dottoressa Slone Prendiamo l'arma mitica Buttiamo tutte le altre armi Dopo prendiamo le armi di sembionti mitici Prendiamo gli airdrop dove ci daranno altre armi oro E abbiamo già vinto la partita Questo è il piano Ragazzi, sei pronto? Come le uccide le persone che l'arma mitica è una calca E questo è un piccolo Una piccola cosa che il professore non ha calcolato diciamo Comunque le altre persone diciamo che non possiamo ucciderle per ora Però diciamo che se tu lendi magari un po' più vicino a me No vabbè ma scusami ma questa qua è la cosa più OP dal mondo Ma questi NPC a parte ne sono tre Slone che ammazzano Ma poi ci stanno anche le guardie OI che hanno veramente No 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 sono troppo forti Braga Sono troppo forti Ma qual è la prima è la prima quella vera è la prima La sto sporcando E ho capito però è comunque tosta Guarda Non so qual è Qual è la destra E quella con poca vita E quella lì Bravo Braga Grazie Allora vieni qua Andiamo 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 a prenderla Da fine Ci c'è gente quelli c'è È un casino È un casino Persona Prendi veloce l'arma Prendi veloce l'arma Vieni qua Aspetta Ok Ci sono queste persone mi raccomando Sì 39 Guaizze Guaizzi 奇chio Ora è avvenuta Tor Sergio Se non è morto Sono morto Aiutami Salò Gero Garing Gero Bravissimo Troppo forti Troppo forte Perché se non puoi sparare Quindi troppo forte Abbiamo un altro obiettivo ragazzi Sembionte di Carnage Guardate la sua distanza È abbastanza distante Però non impossibile Perché possiamo farcela ragazzi Ce la possiamo fare Però è un casino Anche i corvi d'oro possono darci le armi È il genere estra via via Corriamo via ragazzi Che è un bel caso Metti una scala Ok va bene Perfetto ci siamo Andiamo andiamo via Eh la la Cosa abbiamo Abbiamo dei nemici E anche un lama braga Lo distruggiamo subito Lo distruggiamo subito questo lama Si muova Si muova Si muova Si muova Si muova Si muova C'è gente C'è gente Ok ci siamo Non posso spararli Non so se hai capito Dobbiamo andare a prendere Caneggio Non fa niente Ok vieni vieni Si vola Si vola Si vola Abbiamo il sembionte Ce l'abbiamo Ok Eccolo qui Allora Te lo dico Che lo prendo io No non è vero Lo dovresti prendere tu Dobbiamo scappare un attimo Oh mamma mia Vieni qua Vieni qua Vieni qua Pure ti Pure ti Pure ti Hai cura No Aspetta Sì sì Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Però Devi binare tu Non posso spararli Carmi mazza E vai Fuccidi 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 Arriva su amico Via 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 Qua 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 Ci curiamo Ci curiamo Devi holdare Una cosa devi fare Oh mi sto dando Ok Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ok No cosa fai Vieni ti Malato Non ho evitato Malato Sei malato Non lo prende Sta arma Ma il bacio Io no Aiuto Devi un attimo Metarlo Devi fungere Da distrazione Ok Fungere distrazione Non l'ho detto È morto Il cimionto è meglio Che lo tieni tu Perché Se non è un bel casino E ci siamo Ragazzi Mamma mia Veramente procede A gonfie vele Calpi Vieni qua Vieni qua Che ti propongo Un bellissimo Scambio Guarda qua Cosa mi offre Con il mitico AR mitico Se ho visto Che te con l'AR Mitico Non sei bravissimo Cioè io comunque Sono da fare Te lo ricordo Guarda Mi alletta Questa proposta Mi alletta Perché così posso Posso combare Gli avversari Con la combo Più forte del gioco Però adesso Mi manca un'arma Vabbè Non fa niente ragazzi Ce la faremo lo stesso Braga stirato Venga da me Subito Salga su Che dobbiamo andare A prendere gli airdrop Regà Ho anche un'altra idea Per prendere delle armi oro Andiamo a Rift Così dopo ci danno Già l'arma Quella in teoria Almeno viola E dopo ce la trasformiamo In oro Ok Così almeno È buono È una bella idea ragazzi 10 su 10 Eccoci qua Nel Nel Oblio Nella cosa Brutta Veramente brutta 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 Aspetta un attimo Capro le ceste Ok Mi è andata Vai braga Ucidi tutti Ucidi tutti Ok Oh Minican oro C'è non oro È viola Vabbè Cos'è sto mostro qua È grosso È grosso Occhio Non l'ho mai visto Ragazzi Stranno Io Pina volta Vai muori Ti muovi Eh vabbè C'è pure lo suono E dove Opa È un corpo Molto Ha dato armi Viola Buona È diventata Un NPC Sfigata Ragazzi Io non la sapevo Questa cosa Sbrigiamoci Un attimo Ad uccidere Tutte queste persone Qui dentro Perché mi stanno Veramente rompendo Le scatole In una maniera Impressionante Uh vittoria Buono 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 Allora Io ho 40 Di Babani Di questi Cosi qua Dammi la R Che voglio una R Almeno Mi compro Ne dan 25 Sì Li compriamo L'ho presi L'ho presi Devi dare Lo faccio diventare oro C'è gente C'è gente Occhio che ci investe No Non funziona Questo Vai 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 22 shield Eh non posso Vai farci molto io No tu puoi farci tutto Come la sera è rimasta Aspetta un attimo Ah grazie aiuto Calpi Devi far subito Eh non ha funzionato Non ha funzionato Non ha funzionato Non ha funzionato Ho sbagliato Molto male Calpi Tranquillo Tranquillo ci siamo Ci siamo Devo aspettare un attimo Solo E proprio dopo ho vinto Dopo ho vinto Ok Mi distrutto quello Ma hanno ridotto il range di quest'arma Non becco più le persone È incredibile 22 bianco Ok perfetto Hanno poca vita braga Aspetta che prova Ok Atterrato Gravissimo Vediamo un po' cosa aveva di oro Questo tizio Aveva un altro Ok L'altro Guarda me Lo voglio grabare Calpi Lo voglio grabare Sì Aspetta Però non lo vedo Non so esattamente Non so esattamente Non lo vediamo Annaggia lui È questa Prassica della muerte S È funzione ancora Ok Allora Adesso Vediamo un pochettino Il da farsi Mi devi dare Se non ci dispiace La R È normale Ah eccolo qua La R Che lo faccio diventare Oro Buono 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 Dammi anche un pochettino Anzi no Ne compro ancora Mi faccio la R O la minigun Mitica Non lo so Io direi la minigun Io direi la R Invece Mi sa che il nostro inventario Inizia a prendere Veramente forma Ha preso Veramente Tanta tanta Bella forma Vieni qui per favore Ok Guarda qua C'è Guarda che bello BAM 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 Ok questa la prendo io No 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 Andiamo alla prossima Sei proprio simpatico Sei divertente Ok perfetto Braga Gente Gente qui davanti Occhio È lontanissimo Te Gente lì davanti Devo jumpare da te calvi Eh sì Se riesci jumpa Che potrebbe essere Una cosa positiva Comunque Tu per caso Hai 32 Dei Dei cosi Dei party Di mostri del cubo Tra i calvi Nei tre Sì Allora Mi sa che non sono troppo utili Vabbè non fa niente Raga Ma i tizi qua Sono scappati Sono qua dentro Per forza Si son dentro Ok lo prendo Preso E para bra bra Avevo uno spasso No Volevo dire viola Peccato Ok è occhio E occhio Occhio Prova un attimo a distrarlo E prova un attimo Mamma mia Ok Faccio io Faccio io Adesso No Non doveva andare così E non doveva andare Ce l'ha nel box Arrivo arrivo Brega E posso provarci Posso provarci Aspetta un attimo Ok let's go Se si è preso 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 Molto Molto Easy Calpi E' un altro team E' un altro team Proprio Non era lo stesso Del team Esco allora Bravo Vai a vedere un attimo Che cosa c'è dentro Dove Non c'è il tizio Dove è il suo amico L'amico E' strano E' non fa niente Non facciamoci più Con le domande Ma come spiegher materiali Poi non ne ha Ho detto Gente qui davanti Pure Papà 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 Sei veramente uno schifo Perché Vai vai Di struttura Per fare Gravando Da spaccato E' niente Un po' godo Un po' godo Sinceramente Mamma mia Rega Veramente Assurdo Ma te Quanti kill hai Stai giocando Veramente Zero Ma sei una pippa Allucinante Ma che so Mi rupi pure Le spaspe Non muoio Sono il più forte Sono il più forte Guarda qua Che schifoso Eh no Non lo grabbo proprio Non è che l'ho appena ucciso Ha ne è ucciso Niente Non ho detto Mi sono Mi risposta Morto Morto Ma Speri Adesso No Assolutamente No E' altra gente Un altro team da due qua Occhio braga Occhio braga Capissimo Papà 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 E' altra gente Vai Capo le calpi No Non ce lo faccio E' diventato molto più scarso Eh Ma adesso Mi sembra un po' esagerato Da parte tua No aiuto 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 Ora Aiuto Ora Aiuto Ora Ma scappa Ma cosa scappa Vieni qua E affrontami Davvero uomo O davvero donna Non devi morire calpi Io mi devo curare Grazie E ho capito che non devo morire Però è un bel casino Perché sai che non è facile Grabato Et voilà Ok Siamo vivi Siamo vivi i vegetti Però Siamo usi a due contro uno E tu ricontinua ad avere zero kill Mi fa piacere Ma come faccio a fare Con solamente un air Spiega Hai vero che tu hai ancora L'automotico Mi dai anche l'automotico Per cortesia E niente Tieni tutto te Io non ucciso L'automotico Era Aspetta Facciamo così Voglio avere un attimo Un loot Un po' egoistico Da parte mia Però Ma intanto sta sparando a caso Il tizio Stava sparando I mai 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 Ma cosa sta facendo Aspetta Ecco Sta morendo da un porco Ah no Da un loot Sta morendo da un loot Allora Ci Gli regaliamo Tutti No Mi ricordo Io lancerai in tempesta Anzi regalo Regaliamo No No Pazzo Ho boxato Boxato I muri Boxato I muri Eh non ce li ho Io Non ce li ho Ma L'ho scelta L'ho boxato L'ho boxato L'ho boxato L'ho boxato L'ho boxato Io lo faccio volare Ciao bello Ciao bello Fuori dalla safe Guardalo Poverino Guardalo Ci prova lui Ragazzi Ti sento una persona schifosa Rilanciato dai poveri Giocchiamoci un po' No basta Basta Mi hai rotto le scatole Aspetta No Aspetta Voglio buttarlo Io Calpis Aspetta Allora io gli regalo La win Ragazzi Regaliamogli la win Solo perché non sono nel mio account Perché no Fuori Fuori dalla win Calpi son fermo davanti Lui mi ispira Vieni fuori safe Abbiamo capito che ha dei problemi Palesi di vista Vai Ce la puoi Vai mi da Dai 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 mi da Dobbiamo caricarlo con una canzone In fondo al mar In fondo al mar C'è una vita Non ce la fa Non ce la fa Calpi se lo fermo Te lo giuro Ho sentito Per favore Non vedevo gente così scarsa Non vuole Tanto te Calpi No adesso vado Non ce la fa Adesso inizio a piccolarlo No però no 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 Let's go Let's go Direi challenge portata con successone Con un bel regalo all'ultimo avversario alla fine Mi raccomando Codice Calpis nelle cose oggetti per supportarmi al massimo E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 ciao